La scuola non è né di destra né di sinistra, la scuola è di cittadini di Subbiano. La decisione del sindaco di Subbiano Antonio De Bari di chiudere la primaria Sandro Pertini perché non rispetta le norme antisismiche ha fatto scoppiare un vero putiferio. È una cosa molto pericolosa, una cosa che hanno fatto fare a me questi tecnici come sindaco di allora, ma non solo a me, a Piero Picinotti prima, al sindaco di ora De Bari perché tre anni ci ha messo i ragazzi anche lui. La domanda che in molti si sono posti è perché accorgersi solo adesso che la scuola ha problemi statici. L'edificio è stato costruito nel 1994. Il sindaco prima di me sotto questo tetto ci ha messo i ragazzi, c'era i ragazzi, c'era la scuola collaudata da persone esperte allora del 94. Nel 2003, 2004, 2005 è stato rifatto tutto il collaudo nuovo e è attestato il collaudo. Il sindaco dopo rischia personalmente quando ci mette i ragazzi, quando i progettisti, quando i collaboratori danno mano all'amministrazione una scuola che è sicura. Perché io avevo fatto fare i lavori perché per me era una scuola sicura. Esiste una legge che se viene chiuso le scuole, ti puoi utilizzare i soldi che hai in cassa. Questa cosa qui penso che non l'abbiamo fatta perché sarebbe una cosa molto grave. Perché potevano tranquillamente dire, signori abbiamo 2.235.000 euro, che 500 l'hanno già spesi, di quelli che ho lasciato la vecchia amministrazione, che avevo lasciato io. Li voglio utilizzare per la scuola. Bastava convocare tutti i cittadini, l'opposizione e la minoranza, mettere a disposizione tutto il sistema, non fare terrorismo. Perché se fosse stato questo è un terrorismo vero a cittadini e subbiano e alla minoranza e all'opposizione. Io, se fosse stato questo, io chiedo l'indimissione del sindaco e tutto il consiglio comunale. Perché non possono rimanere lì se fanno giochetti sporchi in questa maniera. Lei chiede anche un'altra cosa nel comunicato stampa che ieri noi abbiamo pubblicato, l'intervento della procura. Sì, io chiedo l'intervento del procuratore perché io ho rischiato del mio. Io ora non vorrei che queste persone, chi ha fatto la relazione tecnica, che dice che la scuola ha questi problemi, faccia anche il progetto di miglioramento. Venerdì è stata chiusa la scuola, venerdì sera c'erano ragazzi sotto a giocare. Se la scuola è alta 7 metri, 8, si chiude il traffico, tutto però, perché non è transennata, non è messa in sicurezza, non ha fatto nulla. Tutto tranquillo, come non fosse successo niente. Però i ragazzi sono d'arte strutture. Ma queste strutture che le hanno messi, siamo sicuri che siano collaudate antisismiche? C'è un'ala, una struttura che è stata fatta nel 38-40. L'acchi, le chiese acchi, si fa scuola anche sotto le tende. Non devono entrare dentro fino a che non è dichiarata sicura. Però se la scuola è stato fatto il giochetto per utilizzare i soldi dei fondi, è una cosa molto, molto, molto grave. Richiedo ufficialmente le dimissioni del Senato.